ciao ragazzi come state? spero tutto tutto benissimo oggi video super super breve perché in realtà tipo tra dieci minuti devo scendere quindi cercherò di fare veloce allora vi volevo mostrare le scarpe che vi dicevo nello scorso video che ho comprato con i soldi della laurea e secondo me sono stupende quindi ve le volevo fare vedere scusate se mi tocco sempre i capelli la maglietta non ve la mostro perché oggi non ho tempo in caso se vi interessa ve la mostro un'altra volta allora aprendo la scatola c'è ovviamente questa carta che ho conservato solo per farvi qualche trigger ah e spoiler ho le unghie uguali alle scarpe allora vediamo la scatola c'è ok non perdiamoci in trigger le scarpe sono queste ditemi se non sono stupende allora analizziamole intanto le ho pagate 59,99 euro c'era la stessa scarpa col tacco così che mi piaceva molto di più ma aveva la punta quadrata e non mi piacciono quelle con la punta quadrata quindi alla fine ho preso questa allora ha questo tacco con questa forma un po' particolare perché se vedete non è dritto ma è così è tipata non so se l'ho detto io ho preso la 38 per le scarpe da tennis prendo anche la 40 ma per i tacchi 37,38 e ha la cinghietta così è attaccata a questo ciondolo che non so riesco a farvelo vedere ho lo smalto lo stesso colore come vedete dal video sembra più tipo cioccolato ma in realtà è un bordeaux molto scuro con questo stile laccato c'erano anche verde menta uno dei miei colori preferiti lilla forse sabbia non mi ricordo poi mi avevano detto al negozio che c'era anche la borsa abbinata ma non l'ho voluta vedere perché ho troppe bors effettivamente e conoscendomi l'avrei comprata quindi meglio così ovviamente non hanno mai toccato terra qua è sporco perché le ho provate al negozio ma già sono pulite proviamo a togliere il prezzo senza speccarmi lo smalto vediamo se ce la facciamo ok vi faccio vedere anche l'altra che ovviamente è uguale solo che questa non ha toccato neanche il pavimento del negozio infatti queste le ho prese proprio dal magazzino c'è scritto Bata Red Label se si legge così comunque niente queste sono le scarpe ve le faccio vedere insieme sono un po' tipo da bambolino non lo so ancora più basse sarebbero state perfette cioè quindi col tacco di bovino qui sarebbe stato ottimo però anche così sono bellissime adesso vi faccio un po' di suoni con la carta di prima c'è anche questo cartone che divide le tue scarpe fatemi ovviamente sapere se queste scarpe vi piacciono e se volete scrivetemi nei commenti se voi siete più team tacchi o team non ballerine però comunque scarpe basse o team non ballerine o team non ballerine Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 continuerei all'infinito ma purtroppo non è possibile mentre io pensavo alla serie che sto guardando per ora è della mia nuova serie preferita ma se volete vorrei fare un video a tema serie tv però non saprei proprio cosa dire perché io una serie dopo che la finisco a meno che non mi abbia particolarmente colpito tipo Criminal Minds che è la mia serie preferita e qualche altra poi alla fine non è che me la ricordo quindi tipo ho visto Lost ma non me la ricordo e così tante altre per cui si vorrei fare un video sulle serie ma non saprei cosa dirmi comunque ragazzi fatemi sapere se queste scarpe vi sono piaciute io le amo, non vedo l'ora di usarle mi dispiace per questo video corto anche quello precedente è stato un po' corto però stiamo sempre sui 10 minuti così non me lo porto troppo troppo corto e niente vi ricordo che per sostenermi potete iscrivervi al canale commentare e lasciare un mi piace oppure potete supportarmi con il regalo dalla wishlist di Amazon oppure super grazie in tutto questo il mio ragazzo mi ha fatto notare che in qualche video fa vi ho detto potete supportarmi tramite e va molto ridere non ci avevo fatto caso e niente ragazzi noi ci vediamo fatemi pensare oggi è venerdì questo video uscirà lunedì quindi ci vediamo mercoledì buonanotte